Il Roma Convention Center, la nuvola, è stato progettato dall'architetto Fuxas negli anni 2000 e ha visto la sua realizzazione e inaugurazione il 29 di ottobre del 2016. Oggi è diventato operante ed è il centro internazionale congressuale di Roma. Un'opera straordinaria con dei numeri incredibili, 25 mila metri di travertino che integrano la vecchia euro degli anni 30 con questa bellissima struttura, ma soprattutto le 5 torre fell inserite in questa struttura pari a 37 mila tonnellate. Per non parlare poi degli 8 campi da calcio pari a 58 mila metri di vetro che in qualche modo contornano questa bellissima struttura. Questo è il forum, lo spazio espositivo che ha una cornice straordinaria, la nuvola, e rappresenta ovviamente lo spazio espositivo per 6 mila metri quadrati, utile per esporre i propri prodotti durante le convention, ma soprattutto i congressi internazionali, ma anche per cene ed eventi particolari. Qui siamo nella plenaria di 9 mila metri quadrati che può ospitare fino a 6 mila persone e può essere suddivisa in 14 grandi sale, da 50, 150 e 300 posti, per ospitare quei grandi congressi internazionali che Roma ad oggi non riesce ad ospitare. Qui ci troviamo nell'auditorium del Roma Convention Center, il nostro bellissimo auditorium con circa 1800 posti, di cui 1200 in platea e 600 in galleria. Anche questo rappresenta un'opera straordinaria, frutto dell'ingegno dell'uomo, del progettista innanzitutto, ma anche di chi ha costruito questa grandissima opera, facendo diventare questo auditorium un auditorium non solo per la musica da un puntista straordinario, ma soprattutto una grande funzionalità per quanto riguarda il sistema acustico per i grandi congressi e le grandi conventione aziendali. Il 29 di ottobre del 2016 abbiamo inaugurato l'opera e già ad oggi abbiamo ospitato 15 eventi. Ne abbiamo contratualizzati altre 17 per il 2017 e abbiamo in questo momento in corso oltre 50 trattative che ci hanno già portato per il 2018 ad avere per 103 giorni occupata questa struttura.